E' stata presentata la Notte della Taranta 2021 insieme al programma del Festival Itinerante che si svolgerà fino al 26 agosto, annunciati i maestri concertatori del concertone finale di Melpignano del 28 agosto. Sono Enrico Melozzi e Madame. Massimo Brai, che è assessore alla cultura, ha dichiarato «Credo che l'edizione 2021 della Notte della Taranta possa vantare uno dei palinsesti più ricchi e interessanti tra i festival musicali d'Europa. Tengo a ringraziare tutto il mondo che ruota attorno alla Notte della Taranta, senza dimenticare la grande figura di Daniele Durante, di recente scomparso, un'artista che ha lasciato un segno indelebile nell'evoluzione di questa manifestazione». Madame e Melozzi dirigeranno lo spettacolo in programma il 28 agosto a Melpignano, che sarà trasmesso per la prima volta da Rai 1 il 4 settembre alle 22.30. Tema del concertone 2021 è il valore della libertà. «Per la prima volta abbiamo due maestri concertatori. Enrico Melozzi, un direttore d'orchestra, diretto di Maneskin a Sanremo, compositore e musicista. E poi insieme a lui Madame, perché abbiamo riflettuto a lungo e quello a cui siamo giunti è che era importante quest'anno indirizzarci verso la generazione Z, i ragazzi del Covid che sono stati chiusi per dare un grande messaggio di riapertura, un grande messaggio di socialità e abbiamo quindi operato queste scelte. Il festival è lunghissimo, inizia il 4 di agosto e finisce il 28 con la serata di Melpignano e quest'anno c'è la novità che andiamo in due province nuove. Cioè andiamo a Taranto città in periferia e anche a Lecce in periferia nella 167 per delle scelte precise e poi in provincia di Bari ad Alberobello.